Se stai avendo problemi all'avvio su Call of Duty è possibile andare direttamente su Xbox Game Pass, vai direttamente su Manage dove c'è scritto personalizza per vedere se dobbiamo fare qualche aggiornamento perché se non dobbiamo fare nessun aggiornamento andiamo direttamente su File, proprio qui c'è scritto cerca qualche aggiornamento da fare oppure sotto dove c'è scritto verifica e ripara il gioco per fare tipo un ripristino dell'applicazione e vedere se funziona quindi in questo caso clicchi sopra, fa un download e poi vedi se si avvia il gioco quindi se non dovesse bastare andiamo direttamente sulle applicazioni del nostro sistema operativo scendi fino a giù fino a trovare così Call of Duty, fai anche la stessa cosa con Xbox quindi vai su Call of Duty, vai sui tre puntini e vai su opzioni avanzate prima interrompi il servizio che hai avviato per Call of Duty anche se non si è avviato il gioco però c'è un servizio che si è avviato in gestione attività quindi devi interrompere il servizio qua sopra e poi fai ripara fai anche un reset quindi ripristina così l'applicazione e poi fai il login al tuo account Xbox e fai un ripristino se non dovesse bastare puoi andare direttamente su support, chiedere direttamente il supporto a Xbox e fare un ripristino dell'applicazione quindi sui servizi di riparazione con gli strumenti e inizi così la riparazione su Start questo qua, fai su Start e fai un ripristino di tutta l'applicazione una volta fatto tutto il procedimento è possibile andare direttamente sul supporto della Xbox quindi in questo caso ti ho lasciato in descrizione così il link che ti porterà su questa pagina vai direttamente su Download qua sotto della versione scendi fino a giù fino a trovare Download Gaming Service Repertor 4P un tool quindi un servizio da usare sul nostro sistema per vedere se può aiutarci a risolvere il problema sulla Xbox quindi andiamo a scaricare così questo servizio installiamo il nostro servizio e facciamo sì una volta fatto non ti resta che aspettare aggiornamento di Xbox App quindi l'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti ora una volta fatto ripetere le azioni e verificare che funzioni ora il problema è stato risolto facciamo Y facciamo sì, basta operazione completata correttamente l'errore 0x0 premio invio per chiudere una volta fatto in descrizione ti ho lasciato così dei comandi, dei codici da inserire direttamente sul PowerShell quindi esegui come amministratore copia, copia così il primo comando per ottenere così l'applicazione del Gaming Service fai CTRL V e fai invio una volta fatto prendi il secondo comando e lo inserisci ed eccolo qua servizi di gioco e fai ottieni scarichi installi così il servizio di gioco per Xbox una volta fatto puoi chiudere qua e poi scrivi exit una volta fatto il tutto andiamo direttamente sulle impostazioni vai direttamente sulle applicazioni installate quindi in questo caso sopra installazione applicazioni scendi fino a giù fino a trovare così l'applicazione Xbox tre puntini opzioni avanzate ed eccolo qua reimposta puoi fare direttamente un ripristino e reimpostarlo i dati dell'app verranno eliminati quindi in questo caso dovrai fare l'accesso al tuo account puoi fare il login e basta e fai un ripristino e chiudi qua quindi per altri problemi ancora tu puoi commentare sotto al video se ti è stato utilissimo puoi iscriverti e lasciare un like se hai problemi basta che me lo scrivi e in futuro realizzerò altre guide a riguardo quindi grazie a tutti per questa visione noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao e ora non mi resta che avviare il gioco e vedere se si avvia ovviamente sta andando il caricamento sta andando quello iniziale ed eccolo qua si attiva anche il ricochit ed ecco che carica e si è avviato quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lasciare un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao